Un turista italiano di 58 anni è stato ferito da un proiettile che l'ha colpita l'ultima notte mentre era nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino al campo. Il veicolo, in cui era con suo marito che non era ferito è stato raggiunto da diversi colpi, secondo quanto appreso dal procuratore locale. Turista italiano ferito in Corsica Il turista era in Corsica con la famiglia e le riprese contro il camper su cui viaggiava e che si trovava in un parcheggio lungo la RT20 Road si svolgeva intorno alle 2200 di ieri sera. La donna è stata gestita nella notte all'addome dei medici dell'ospedale Bastia, dove era stata trasportata e sempre secondo lo stesso giornale nella versione online non è in pericolo di vita. La procura di Bastia lo arreso notò che aveva aperto un'indagine per tentato.